La Fondazione Ivan Bruschi ha organizzato un festival importante, il Festival della Cultura Creativa. Come è andato? Qual è il bilancio? Ha avuto un grandissimo successo. Il Festival della Cultura Creativa, che era la sesta edizione quest'anno, promosso da Abida, l'Associazione Bancaria Italiana, ha visto anche la Casa Museo Ivan Bruschi, che è amministrata da UbiBanca, rispondere positivamente a questa richiesta che Abici faceva anche per il secondo anno. Quest'anno il tema era legato alle intelligenze, le intelligenze umane, ma anche quelle artificiali, tutte quelle intelligenze che creano un qualche prodotto per risolvere determinati problemi che l'uomo si trova a dover risolvere giornalmente. Quindi siamo partiti con un percorso veramente particolare, utilizzando gli oltre 7.000 oggetti che abbiamo intorno, ci permettevano veramente di lavorare bene su questo tema e quindi abbiamo individuato una decina di oggetti, quelli che erano delle vere e proprie curiosità legate al genio creativo dell'uomo, fino a oggetti che invece risultavano essere proprio collegati a quelle scoperte scientifiche che hanno segnato la storia dell'uomo. È stato un percorso molto carino, è piaciuto tantissimo, hanno partecipato oltre 13 classi di scuole diverse del territorio con risultati incredibili perché hanno sorpassato le oltre 540 presenze di studenti e anche di famiglie perché poi il 30 pomeriggio era dedicato proprio alle famiglie dei dipendenti di Ubi e quindi un risultato incredibile che ci ha permesso di far conoscere ulteriormente ai giovani di Arezzo e non soltanto la collezione di Van Bruschi. Grazie a tutti.